ciao il tuo video grande chi sei sono francesco il fratello dello sposo lui è lo sposo da dove venite dalla provincia di matera a dubassi si sono io sono io ecco perché mi fanno capire che c'è qualcosa di peggio rispetto al matrimonio vergognati vergognati è lui è lui e questo è il fratello della sposa ciao è un forte si è colato no 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.